...di spazi, a un po' di battagliate che anche la tappa posteriore sono levante, non vuoi che ancora si è scatto le piscine. ...e spazio che non si deve rongerare. Questa è la partenza che guarda lì, non è stata rivolta, e a me è stata con la tappa posteriore. ...allora, passiamo agli attuali. Mi ricordo che siamo lasciati a vittorale in palazzo, stiamo passando il poverizio qui, e la mia città è stata con la costana. ...con il quarto di nuova, la costana, non sono parte dei tanti, non sono parte dei palazzo, non sono sempre di costa di un minuto. ... ... ... ...